Lo stile nordico è uno dei più popolari al mondo e non è difficile capire perché. È un mix di semplicità, funzionalità e bellezza che crea un'atmosfera accogliente e confortevole. I colori tenui e neutri sono la base dello stile nordico. Il bianco, il grigio e il beige sono i più comuni, ma si possono trovare anche altri colori come il tortora, il verde salvia e il blu cielo. Questi colori creano un senso di calma e relax. I materiali naturali sono fondamentali per lo stile nordico. Il legno, la pietra e il vetro sono i più comuni. Il legno in particolare è un materiale molto versatile che può essere utilizzato in diversi modi. I mobili nordici sono semplici e funzionali. Sono spesso realizzati in legno massello e hanno linee pulite e geometriche. I mobili sono spesso imbottiti di tessuto naturale e come il cotone e la lana. Gli accessori sono importanti per aggiungere un tocco personale allo stile nordico. I tappeti, le piante e le opere d'arte sono tutti elementi comuni. I tappeti aiutano a creare calore e comfort. Le piante aggiungono un tocco di verde e le opere d'arte esprimono la personalità dei proprietari. I tappeti aiutano un tocco di verde e le opere d'arte esprimono la personalità dei proprietari. I tappeti aiutano un tocco di verde e le opere d'arte esprimono la personalità dei proprietari. I tappeti aiutano un tocco di verde e le opere d'arte esprimono la personalità dei proprietari. I tappeti aiutano un tocco di verde e le opere d'arte esprimono la personalità dei proprietari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.